Il libro Roma Colonia della Sardegna è scritto in memoria di Francesco Caicou Fais, appassionato della storia e della cultura sarda. L'opera di Bartolomeo Bertudu Porchedu, crogioni in cui si fondano storia, linguistica e archeologia, è stata tradotta in inglese da Maria Antonietta Meloni e in sardo dallo stesso Bartolomeo Bertudu Porchedu. Il progetto, realizzato interamente in Sardegna, è stato ideato con l'intento di divulgare la civiltà sarda nel mondo. Il testo è strutturato in 12 capitoli ed è composto da 452 pagine. I riferimenti bibliografici sono riportati a piedi pagina, con 1250 note che citano fonti di autori antichi e pubblicazioni di scrittori moderni. Più di 100 immagini dedicate fanno da cornice al volume, in cui l'attore pone in evidenza il dominio tenuto dal popolo sardo nel Mediterraneo antico dal Neolitico alla fine del bronzo, come in un mosaico, tassello dopo tassello, egli ricompone la stretta relazione fra Roma e la Sardegna. Buona lettura.